Musica Ciao a tutti ragazzi, ciao a 6 e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon Allora ragazzi, oggi prima di andare avanti, avevo intenzione di far expare un po' i miei Pokémon e portarmi all'istarter alla terza evoluzione Perché questo? Perché nel frattempo dovevo fare un piccolo lavoro, dovevo andare alla ricerca di oggetti per la palestra nuova Già la palestra nuova, diciamo la parte dell'acqua e per farlo mi servirà un po' di tempo Quindi nel frattempo, visto che dobbiamo fare quella cosa, facciamo anche altro Quindi io metterò in un attimo a cuocere questo Iron, mi sono giusto due pezzi veloci E nel frattempo mettere un attimo qua, no questo qua non va, qua Metterò questi due picconi qua che sono un po' distrutti E mi farei un piccolo piccone in ferro velocemente Quindi per esempio, no qua, no il secchio d'acqua, no il secchio d'acqua, perfetto, due Dovrei avere del ferro qua, no ok Allora ci facciamo di tutto questi qua, le forbici, perfetto, mi serviranno E mi servirà ancora del ferro, magari facciamoci un diamante di nuovo Un, due, tre, perfetto Diamo un po', ah devo farmi più da due stick Ok Facciamoci un piccolo in diamante velocemente, perfetto E andiamo a incantarlo, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare, va Ok, nove Cinque, eh, sei Unbreaking uno, efficienza uno, perfetto, mi piace Attimo possiamo unirlo all'altro magari in futuro Ok, allora Dobbiamo andare a trovare delle piccole cose E mi serviranno queste qua le forbici Dobbiamo andare nelle Non nelle pianure, nelle, come si chiamano Nelle paludi, perfetto A trovare delle Lilliped Ok, che ora non so bene come in italiano, come si chiamano E sono molto utili Però prima di fare quello Mi servirà comunque fare Andare un po' l'Axaray E un po' di altri Pokémon Quindi io direi che Al, Kabutops Ora dovrebbe fare il culo a questo Vittoria Quindi Mudshot dovrebbe fare un bel po' di male Però meglio l'altro, ma se aia Tipo Megadrain o Aquajet Ok Aquajet Bam, ucciso Kabutops Ok E nel frattempo facciamo involvere anche Pignite Che dovrebbe arrivare a 34 Se non sbaglio Comunque Andiamo sempre di qua Doveva essere un po' più avanti Giusto Vediamo un po' sulla mappa Eh, sì Questa zona Devo farmi tutta questa zona Magari andare anche in questa Che è un po' più vicina E Vediamo un po' questo Flygon Che livello è 46 Oh merda Eh, l'Axaray ha un bel po' di problemi Magari ti fa Thunder E ti fa Crunch L'ho ucciso davvero? L'ho ucciso davvero? Ah, non era Flygon Ah, Crunch Infatti E infatti Cosa mai c'è a Servain? No, ma sì Stupido Servain No Kabutops Aia Kabutops Caduto Ah Ah, Quajet Eh, ma muori Eh, vabbè Lui è morto Alphonse Andiamo Eeeh Maniciduo Maniciduo davvero non funziona Ah, funziona Earthquake Vabbè, andiamo Tipo terra Oh Eh, maniciduo di nuovo Aia Ok Perfetto Nostro piccolo Pignite Siamo fatta l'evoluzione Allora Vediamo un po', vediamo un po' Sì Sì Dobbiamo andare un attimo più avanti Oh, e vai Sandwich Vai via Ok Andiamo arrivati Andiamo a prenderci Uh, ciao Graveler Tu sei bello grande Andiamoci a prendere un paio di cosette veloci Allora Mi servirà prima di tutto Eh, dei Lilliped Come ho già detto E magari anche un po' di liane No, penso li lipezzo da me No, beh, le liane, le liane sono belle Ok, uno Perfetto Prendiamo anche delle liane Un paio di trovate, sì Ok, un po' di No, vabbè Le, le Quelle non mi servono Solo le Lilliped mi servono Ma magari Tipo prendiamo un po' di ferro rimanente Potevo fare altro Ok, perfetto Solo una riesco a prendere Devo prenderli a mano così Piccolini Dal basso Ok E anche qua Poi di trovate dovrebbero ricrescere Ok, abbiamo Abbiamo 32 Penso che bastino Ok No, vai cercare di Lilliped Adesso Lilliped Eh, sarà un bel problema Trovarne un po' Beh, parliamone Ne ho già trovate un sacco Già Ok, prendiamo questo Prendiamo questo Oh, c'è il mio amico Ok E devo un attimo Eh, ok Vediamo queste Opla Perché in effetti Avete detto una cosa Io lo farò Ho detto che Avrei seguito quel consiglio E infatti lo farò Perché sopra Lilliped Proprio per quel consiglio Ok Mi serviranno Un bel po' di Lilliped A meno una trentina Forse anche di più A tempo Eh, devo fare Evolvere i Servain Quindi magari Un paio di Pokémon Erba Cioè, erba Pokémon di questo tipo Tipo Sigurdin Possiamo ucciderli con Servain Che comunque Li fa un bel po' di male Con Vine Vine Whip Ok, perfetto Sì, li fa un bel po' di male One shot tipo Ok Goal di livello 20 21 Facciamo di Vine Ok Oh, non la uccide Ah, però Ricordiamoci che c'è una mossa incornata Che li fa male anche a lui Ok A tempo livello Pian piano Magic Up non penso sia un attimo Di a prenderli Anche perché Che cavolo faccio Cioè, non fanno nulla di danno Aia Eh, no Andiamo Semi Aia Ok Dovrei recuperare anche vita da lui Perfetto Vine Vine Provano a morire Ok, buono Ottimo Uh, quando ne abbiamo? 16 17 18 19 Uh, che carini Che bello Opla Ah, è stato un paio di domande Tipo Lise Quando inizierà la seconda serie Lise Quando lascerà il pack della Pixelmon Il pack della Pixelmon Già lo trovate ragazzi Sui Game Grabbers C'è un piccolo tutorial Per una parte del pack Che comunque è abbastanza Poi ho risposto molte volte a tanta gente Che mi chiedeva Quali altri modi avevamo nel pack Quindi più o meno Se leggete un po' i commenti Riuscite a trovarli tranquillamente Non preoccupatevi Uh, qualsiasi king mi spaventa Però io quasi quasi lo ucciderei Perché modo Tipo con Alphonse Alphonse riesce a farli tipo Earthquake Sì Alphonse che lo fai Sì Ok 28 Una trentina Andiamo un po' di più Va Stiamo Stiamo sul sicuro Ok Un'altra Po' Ok Qua sono vicini Quindi meglio prendere questi Poi potremmo andare anche un po' Sì Un po' più a largo E troviamo tranquillamente 33 Prendiamo un qualcosa Ok Perfetto Allora Prendiamo questa roba E prendiamo questa roba qua Ok ragazzi Una cosa che mi chiedo È Secondo voi Una domanda che mi faccio da un po' di tempo Secondo voi Per esempio Quando io faccio dei titoli Molte volte voi non li capite O nel senso Sono dei titoli abbastanza complicati Perché infatti Cioè Non è che ci lavoro tantissimo a farli Però Sono molto a caso alcune volte Beh ok Non proprio a caso Nel senso Nel titolo metto sempre Nome della serie L'episodio Cioè metto la stagione Che è S 01 02 03 04 Come sta succedendo per esempio Quello lì di SeaCraft La Ehm Oltre alla stagione Scrivo anche Ehm Il numero dell'episodio E oltre a questo Faccio anche Oddio Faccio un po' di male Mi faccio così E scrivo anche Ehm Come si chiama Come si chiama Non mi ricordo il suo nome Anche Qualcosa Riferito all'episodio Per esempio Exp O piattaforme O cose del genere Secondo voi E' una cosa Buona da fare O per voi Abbastanza inutile Nel senso Potete anche Non vederle Nel senso Anche questo E poi Stavo pensando Visto che molti Fanno miniature Su youtube E potrebbe essere utile Volete che Dai prossimi episodi Comunque Dalle prossime serie Faccia anche Delle miniature Cioè le miniature Non le faccio io Sicuramente Le farò fare Tipo qualcuno Che io sono negato Da questo punto di vista Però Potrebbe essere bello Vedere anche delle miniature Che dite Potrebbe essere carino Fatemelo sapere il qui sotto nei commenti Una domanda che mi chiedo molto spesso E non ve l'ho mai fatta Questa domanda Perché Sì Non ho mai La motivazione di fare Essenzialmente Perché Sì potrebbe essere anche utile Farvele Però Boh Boh Penso che niente Evolva Un po' più avanti Forse Tipo 36 Probabilmente Vabbè Comunque deve livellare Su questo non ci sono dubbi E Allora Facciamo così Facciamo Un attimo Andiamo a vedere Un attimo Lillipad A suo punto Facciamo Alphonse Fai Ok Andiamo Alphonse Ok Perfetto Aia E Scusa Microfono Scusa Ho picchiato il microfono Ragazzi Mi sono fatto anche male io Sorry se avete sentito Un brutto rumore Ok Arrivo subito ragazzi Ok ragazzi Rieccomi Allora Abbiamo iniziato tipo A piantarle adesso Ok Doveva essere tre Giusto Tre E due Ok Perfetto Ah no ok Quindi sono quattro Non tre Sì sono quattro Perfetto Quindi così Così No Però qua si poteva prendere Rettamente È vero Mi sono dimenticato Vabbè Insieme per le iliane Ok dettagli Ok perfetto Tipo così Da qua Dovevo eliminare sta roba State che levo sto Sto grass block E devo anche Spalare giù Dovevo scendere anche giù Di un bot Ragazzi Però quello faremo Nei prossimi episodi Magari Ok di qua Tipo Qua Perfetto Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Ok Perfetto E anche di qua Perfetto Ok Perché in teoria Doveva essere così E poi vabbè Ok Tutto il resto Perfetto Ok Mettiamoci un po' di liane Qua vicino Tipo fanno un certo effetto figo Che comunque È tipo una cosa Abbastanza carina Dovevo dire Perfetto E so che sto lavorando Adesso su questa qua Senza aver finito Quell'altra Di parte Però questo è un po' più semplice Da fare Perché comunque Più o meno abbiamo fatto già tutto Ok Sì L'idea di fare queste cose Mi piace Abbastanza carina Perfetto E qua non ci sarà una cosa Tipo Cioè Comunque non ci sarà Nulla In termini di Diciamo Di Forse Zona di incontro Perché Al fine è inutile Tanto loro possono Buttarsi giù Con che nell'acqua staranno E tranquillamente Possono combattere Se ci sono dei pokemon d'acqua Per esempio Buttiamo Priplap Priplap nell'acqua Tranquillamente sta Vedete Galleggia Comunque è bello Vedere nell'acqua Combattere E dopo stanto qui Tipo di succede tutto Ma ci vorrà Un tento di fare questo Quindi Questo lo vedremo Magari in futuro Allora direi che Quasi quasi Io farei una cosa Veloce veloce Ok Ovvero Prendere questo vetro E piazzarli Qua Tanto mi serve davvero Pochissimo vetro Per finire tutto quanto Perfetto Oh Guarda Ok E fare in questo modo Perfetto Abbiamo finito Anche questa parte Ok Lillipa Lasciamo qua E a sto punto Abbiamo due cosi Qua Io farei anche Vulcanetto A sto punto Non l'abbiamo ancora Fatto del tutto Il resto Però Almeno un vulcanetto Voglio farlo Quindi facciamo un attimo Vulcanetto Andiamo di qua Fatemi sapere sempre Nel commento Ragazzi Quale di cui due Preferite Io preferisco Se sicuramente Questo più grande Più carino E ok Andiamo di qua Facciamoci un vulcanetto Qui dietro Perfetto Tipo Deve essere grande così Così Perfetto Così Perfetto Comunque ok In questo modo No Forse qua Non va bene Sì ragazzi Qua sono più veloci Perché tipo Questo è l'asfalto E quindi In teoria Lui dice Minecraft È l'asfalto Quindi Cosa fai tu Nell'asfalto Corri E quindi Fa la corsa Sì una grande strunzata Lo so Ok E aspettate Oh e dai Sì è un po' difficile Tipo andare qui sopra Ok Perfetto E devo un attimo Fare in questo modo Ok La lava interna Dovrebbe colare In modo migliore Però vabbè Più o meno un vulcano Ragazzi Ok Sì Qua devo fermare Un attimo Sta cosa Sand Qua Perfetto Vabbè Tanto Sì Non dovrebbe colare Così tanto Magari Oh merda Merda Nella lava Nella lava Nella lava Nella lava Nella acqua L'acqua 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 Wow 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 Stupido Coso Di merda Ok Magari Tipo Usiamo Dall'arte Va per salire Di sopra Ok La dove Tare l'acqua E la lava Così Espande In entrambi I lati Aria Tipo Devo Disminare Anche Quello Aria Tipo Devo Farlo Un po' Più Qua Tipo Qua Ok Sì Va proprio Più Figo Così Perfetto Qua Dovamo Anche Bloccarlo In qualche Modo Ok Qua Dovrebbe Bloccarsi Perfetto Adesso Lo aggiustiamo Ottimo Qua Deve essere Chiuto Oh Cosa vuoi Diglett Ductrio Ductrio Muori Sto facendo Alto Sto facendo Non vedi Non mi vedi Ok Più o meno Così Perfetto Ok Dovrebbe Essere Più o meno Un vulcano Non vorrei Di nulla Però Dovrebbe Essere Un vulcano Anche Di qua Devo Chiudere Perfetto Perché dovrebbe In teoria In teoria Dovrebbe Scendere In diverso Modo Qua Però Vabbè Più o meno Così Dovrebbe Essere Ok Perfetto Magari Tipo Così Oddio Sta scendendo Ancora di più No 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 Che brutta Cosa Blocca Qua Dovrebbe Essere Un vulcano Un po Bruttino Però Un vulcano Dovrebbe Essere Sì Più o meno Un vulcano Ragazzi Sì So che Fa Bastanza Schifo Devo Migliorarlo Sì Devo Migliorarlo Di brutto Quei blocchi Sono pericolosi Davvero Quindi Un po Dovevo Lavorarci Va bene Ragazzi Perché Spreggiate Tutto Comunque Spero Vi Piaccia Quella Cosa Abbiamo Fatto Adesso Per Di Lì E Qui Dovevo Lavorarci Un bel Po È un po Problematica Questa Parte Di palestra Non Non so Non riesco a regolarmi Mi esce in un modo bruttissimo Invece Invece questa Stà Scendo davvero Molto bene Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Spero Anche questo episodio Vi sia piaciuto Ricordate Potete mettere un Mi piace E oggi sono usciti Ben 5 video Quindi Oltre a questo Ce ne sono Altre 4 E lì c'è Un super bellissimo Piccolo amico Che lo ucciderò Completamente Se riuscirò Avrei tipo Paura di morire Ok questo Un bel problema Non è tutto Dovrei uccidere ragazzi È il problema Sicuro Muoio No Potrei fare così Potrei fare Bag No Battle Potrei rannare Ranna Ranna Un attimo Oh ranna 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 Dai Ranna 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 Ok Allora Allora Prendete un secondo Ragazzi Prendete una cosa È fainted Tutti fainted No Ok Prendiamo questo qua Max revive Raffetto Dove è finito Tizio Oh Dove è finito Eccolo là Il nostro piccolo amico Rilanciamo un bel primplap Ok Bag Battle item No era Status restore No Capire Restore Quindi Ok Suscitato Bam Oddio Mi ha fatto il culo Mi ha fatto Bubble Doveva fare tipo Una merda Ok è morto Ok Earthquake Ragazzi Si face un bel po' Un bel po' Di male Questo stronzo Oh Bel male Mani sotto Vai mani sotto Aia Uh Netball Super potion Che merda Ma da una mazza Allora ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao Ricordate quella cosa Ciao ciao Ehi tu Sì Dico proprio te Sì Sono da queste parti Sì Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno di video di gameplay Quindi Che aspetti Vi doverlo più da vicino Persone o animali o bambini Non sono stati sfruttati per la realizzazione di questo video Ciao